Meditazione, la bolla di sapone. Gioia, leggerezza, magia. La bolla di sapone ci riporta alla spensieratezza di quando eravamo bambini, dove tutto era semplice. Quindi cerca un posto tranquillo, una stanza, dove puoi fare questo gioco, seduta o distesa, non è importante. Fai quello che ti fa sentire a tuo agio. Scopo di questo gioco è stare bene, allontanare ansia, paure e tensioni e anche dolore e riprendere il controllo della propria vita. Ascolta la mia voce. Io ti guiderò attraverso delle immagini. Descriverò queste immagini come un film che tu ed io andremo a creare. Vedrai colori, udirai suoni, sentirai odori e proverai sensazioni. All'inizio potrebbe essere difficile, ma non ti scoraggiare. Puoi fare questo gioco tutte le volte che ne hai bisogno, tutte le volte che desideri stare bene. Alla fine del gioco proverai delle sensazioni, delle emozioni. Se lo desideri puoi anche raccontarveli, così la prossima volta faremo un altro gioco ancora più bello. Quindi partiamo. Ti trovi in un bellissimo prato di margherì. Guardati attorno. I colori sono meravigliosi. L'erba è verde, scura, fonta, piacevole sotto i piedi scarsi. Tu sei in piedi, in mezzo al prato. Vedi te stessa in piedi, in mezzo al prato. Sei di schiena. Intorno a te ci sono alberi grandi, con rami che offrono riparo. Ti avvicini a uno di questi alberi. Tocchi la corteccia ruvida e senti la sua energia che ti travolge. Alzi la testa, fra le foglie senti il rumore di uccelli che ci inguettano. La giornata è calda, c'è un sole primaverile. Il cielo è azzurro e senza rumore. Un leggero venticello ti sconfiglie i capelli. Tu stai sorridendo. Ma non sei sola. Guarda bene. Canto a te c'è un'altra te stessa che ti tiene la mano. Sei doppia. A destra ci sei tu, luminosa e sorridente. A sinistra ci sei tu, in versione più piccola. Lei ha lo sguardo triste e preoccupato. E' triste perché se ne deve andare. Tu sei felice, perché lei se ne sta andando. E porterà via con sé tutte le ansie, le paure, le tensioni, i dolori. Via, via tutto. Guarda a sinistra. La vedi in lontananza quella cosa luccicante che avanza? La vedi che si avvicina? E' una bolla di sapone. E' rosa. No, e' azzurra. E' fatta dei colori dell'arcobaleno. Grande, trasparente, bellissima. La bolla si avvicina. Vedi te stessa di destra? Si fa sempre più grande e luminosa. Lascia la mano dell'altra, che si fa sempre più piccola. Adesso è piccola. E' una bambina. E' triste. Piange. Non vuole andare. Ma tu, che sei grande, la rassicuri. Sarà un bel viaggio. Non temere. Lei entra nella bolla. Si divira e ti saluta. La bolla se ne va lentamente, danzando sul prato di margherite. Guardala. Si sta allontanando. Guardala. E' sempre più piccola. Lontana, lontana. Adesso è un piccolo punto di luce. Ora non c'è più. La bolla di sapone si è portata via tutte le paure, le ansie, le tensioni e i dolori. Un buon ascolto e una buona meditazione.